Si dice che Meghan Markle e Kate, la duchessa di Cambridge, stiano pianificando di collaborare per un documentario di Netflix sull'opera di beneficenza della duchessa di Cambridge. Oggi i conduttori australiani Karl Stefanovic e Alison Langdon hanno affermato che Meghan Markle e Kate, la duchessa di Cambridge stanno lavorando insieme a un progetto Netflix. Si ritiene che il documentario reale, ancora senza titolo, si è incentrato sull'opera di beneficenza della duchessa di Cambridge. Il presentatore. Stefanovic ha suggerito che il nuovo progetto potrebbe anche fungere da mezzo per schiacciare le voci di una rivalità tra i due. La signora Langdon ha dichiarato. Nuovi rapporti dicono che Meghan Markle e Kate Middleton stanno collaborando a un documentario per il gigante dello streaming Netflix. I rapporti devono ancora essere confermati da entrambe le parti, ha aggiunto l'ospite. Ma le fonti hanno detto che il progetto sarebbe stato l'obiettivo principale del lavoro di beneficenza di Kate. Potrebbe andare in qualche modo a mettere a tacere quelle voci di una rivalità tra i due. Ha detto Stefanovic. Alcuni Meghan hanno affermato che la colpa è dei social media. I rapporti sulla nuova joint venture di Netflix tra Kate e Meghan sono arrivati mentre il programma australiano Today Extra ha discusso dei sentimenti del principe Harry riguardo alla vita negli Stati Uniti. Il commentatore reale Natalie Oliveri ha detto al programma che il duca sarebbe ripensato. Punto. Un presentatore di Today Extra ha dichiarato. Meghan Markle potrebbe essere felice di essere tornata in America, ma a quanto pare la mossa non è stata così facile per Harry. Secondo quanto riferito, il principe Harry sta avendo dei ripensamenti. La Oliveri ha risposto. Esatto. Questo è tutto secondo un nuovo libro, Royals at War, l'autore ha affermato che il principe Harry è segretamente torturato dal trasloco e dalla decisione di lasciare la famiglia reale. L'autore dice che il principe Harry sta trovando davvero difficile adattarsi alla sua nuova vita a Los Angeles.